La lingua cinese avrà la stessa diffusione e popolarità dell'inglese, poiché la Russia ha praticato a lungo solo lo studio delle lingue europee e il cinese, così diverso nella struttura, potrebbe rappresentare l'inizio di qualcosa di nuovo per i russi. Sapete, è tutto abbastanza semplice. L'interesse per una lingua, la sua diffusione nel mondo, dipende dal ruolo del paese che essa rappresenta e in vari campi diversi. Questo riguarda ovviamente la storia e la cultura, ma alla base dell'interesse per la lingua c'è soprattutto l'economia. Si sviluppano naturalmente. Abbiamo un fatturato di oltre 200 miliardi di dollari con la Cina, già 230 miliardi secondo diverse stime. E il volume aumenta. E cosa significa? Non significa solo che le merci vengono trasportate da un luogo all'altro, da un paese all'altro, o che non vengono semplicemente creati collettivi scientifici comuni e così via. Significa che quando le persone comunicano tra loro nella risoluzione di compiti specifici che la vita impone loro, quindi c'è un bisogno di imparare la lingua l'uno dell'altro. E in Cina, tra l'altro, cresce anche l'interesse per la lingua russa e da noi per quella cinese. I membri della mia famiglia già parlano un po' in cinese. Parlano fluentemente. Ma ciò non significa affatto che dobbiamo dimenticare il nostro interesse per la lingua inglese. L'inglese è una grande lingua, adatto molto all'umanità in termini di unificazione della conoscenza, unione delle persone nel campo della cultura e così via. Non rinunciamo a nulla. Non abbiamo lingue ostili. Non abbiamo nemmeno nazioni ostili. Abbiamo elite ostili in alcuni paesi che combattono contro la Russia da secoli. Da secoli. Non solo adesso. Con l'obiettivo di indebolire il paese perché pensano che sia troppo grande. Sono minacciati da un paese così grande come la Russia. Cercano di rallentare il nostro sviluppo, di soffocarlo un po', e forse anche più di un po'. Alcuni pubblicamente, capite, non sto inventando nulla, è scritto nei loro libri, negli articoli, pensano di dividere la Russia in parti separate. Ma con la Cina non abbiamo tali relazioni. E sia la Repubblica Popolare Cinese che la Federazione Russa sono alleati in tutti i sensi della parola. E soprattutto, naturalmente, nella forza unificante dell'economia, cultura e legami umanitari. E la lingua è richiesta. E man mano che cresce, l'economia cinese cresce. Vi ricordo che oggi, in base alla parità di potere d'acquisto, quindi per volume dell'economia, la Cina è l'economia numero uno al mondo. Al secondo posto c'è l'India. Ora la Russia è quarta. E questo significa che, mentre la crescita continuerà, e soprattutto il tasso di crescita dell'economia cinese, è superiore al tasso di crescita delle altre economie mondiali. Cioè, questo divario tra l'economia cinese e le altre, inclusa l'economia degli Stati Uniti, aumenterà. Almeno, nel prossimo futuro, nel prossimo futuro storico, questa è una cosa ovvia. Sì, c'è il reddito pro capite. Un buon indicatore. Gli USA sono molto avanti in questo. In Cina ci sono un miliardo e mezzo di persone. Mentre negli USA poco più di 300. Il pil pro capite negli USA è maggiore, ma l'intera economia della Cina è già significativamente più grande. E il divario continua a crescere. Pertanto, l'importanza della lingua cinese aumenterà sicuramente. Ma, pensando a questo, non dobbiamo dimenticare il ruolo e l'importanza della lingua russa. Prima di tutto, come lingua che unisce tutti i popoli della federazione russa e in secondo luogo come lingua che aiuta nelle comunicazioni con altri paesi. È la lingua della comunicazione internazionale. È una lingua ufficiale dell'organizzazione, una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Più di 300 milioni di persone in tutto il mondo lo parlano e dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere il suo livello e il suo status. Sia all'interno del paese, sia con i nostri amici più vicini, con i vicini, con i nostri alleati. Prima di tutto, naturalmente, lo spazio dell'ex Unione Sovietica, ma anche con i nostri principali partner e alleati, tra cui un paese così grande e promettente nel suo sviluppo come la Repubblica Popolare Cinese. Ma questo non significa affatto, vorrei tornarci sopra, che dobbiate abbandonare l'inglese. No, certo che no. Non oggi. Anche dal punto di vista dell'economia. L'economia dei paesi occidentali è altamente tecnologica, è moderna. E noi abbiamo ancora molto da imparare da loro. Senza dubbio c'è molto da imparare lì. I contatti non scompaiono davvero. Queste elite al potere cercano di isolare la Russia. E' chiaro che non funziona. E' ormai chiaro a tutti. E in questi paesi ci sono molte persone, moltissime, che supportano la Russia, sostengono il nostro impegno a rafforzare i valori tradizionali, combattono anche nei loro paesi per questi valori tradizionali, per la famiglia, per le relazioni tra le nostre sane tradizioni, tra le nostre tradizioni da noi e da loro. E tutto ciò ci serve, tutto ciò è richiesto. Non abbandonate l'inglese, continuate con l'inglese. Ma se vedete la necessità di studiare altre lingue dei popoli del mondo, fatelo, non fermatevi a questo. Bene, grazie per la risposta. Grazie. 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 Grazie.